buongiorno gente oggi eccezionalmente ci saranno tre video questo che riguarda gli aiuti le ultime uscite della meloni uno che riguarda c'è un video di storia più che altro un video in cacchiatura da storico verso un revisionista e poi vorrei fare un commento sul video dell'avvocato che è uscito stamattina alle 7 allora cominciamo comunque con questo che è quello che mi tocca di più il pollicione iscrizione campanellina per ricevere le notifiche se volete condividere video mi fate più che felice vi ringrazio sempre e per chi vuole sostenere il canale c'è l'abbonamento vi chiedo già scusa in anticipo per i capelli da matto ma dietro c'è il cerotto che occupa un po di spazio alla fine del video infatti farò ringraziarmente la dottoressa occhi del cielo so come si chiama ma quel cavolo che ve lo dico giustamente privacy allora oggi verranno decisi nuovi aiuti ma non pensate che vi toccheranno questi aiuti questi aiuti dovrebbero riguardare abbassamento dei costi delle bollette per le imprese soprattutto che sono letteralmente a rischio disastro i soldi che verranno stanziati ve lo dico subito non saranno neanche minimamente sufficienti ma tant'è questo è quello che passa il convento con il governo dei peggiori da domani basta il metto all'offerto mentre dovrebbe uscire una nuova versione del gran di green pass che riguarda gli esentati mentre in tutto il mondo si sta buttando in discarica in green pass perché si è resi conto che ormai la situazione in italia si inventano cose nuove oltre all'idea ve l'ho detto assolutamente demenziale di allungare il brodo anche durante l'estate il nostro ente turistico vi ringrazia sentitamente e questo ringraziamento si uniscono anche gli enti turistici di francia spagna grecia marocco tunisia egitto qualsiasi cavolo di posto al sole vi ringrazia perché voi vi state fumando i turisti siccome il turismo è un settore assolutamente marginale dell'economia italiana almeno nel cervello della marionetta di berlino bravissimi continuate così ci ritenete tutti contenti quando la gente non ha più un cacchio da mangiare probabilmente andrà a casa di questi mille disgraziati perché ci metto dentro tutti a chiedergli qualche spiegazione e spero che loro non dicano l'abbiamo fatto per voi perché io ste puttanate l'abbiamo fatto per voi sono anni che le sento anzi decenni in merito alle convocazioni lo dico anche per il mio caro massimo pasuello allora sembra che siano state sospese in questo periodo perché non si sa esattamente come gestirle e ribadisco un punto non sono gestibili neanche in condizioni normali troppe persone da mandare tutti i giorni servirebbe tenere aperti i centri per l'impiego almeno dieci ore al giorno tutti i giorni della settimana per riuscire a gestire al minimo già così con la situazione che voi conoscete è assolutamente impossibile ma anche nella condizione normale visti gli orari di centri per l'impiego è impossibile rimane rimane un punto non dovete recarvi voi tanto per andare dovete essere convocati questa è la norma vi devono convocare ma nel dubbio una telefonatina al vostro navighetto che tanto tra un mese e mezzo due va fuori dalle balle o al centro per l'impiego fatela se volete stare più tranquilli però si va a convocazione non ci si presenta la tanto per perché non servirebbe a niente devono convocarvi devono essere loro a convocarvi ok però ve l'ho detto se volete controllare e parlare il navighetto con un dipendente del centro per l'impiego non fate assolutamente niente di male almeno ve lo confermano ora queste sono importanti ve l'ho detto di altre cose ragazzi si si può fare la domanda tra poco si potrà fare la domanda per la disability card ma vedremo poi cosa ci metteranno dentro perché per adesso un contenitore in cui cercheranno di infilarci più cose possibili ricordo ancora che mi segnalano ancora il problema con i prelievi della segno unico grazie di problema è che post italiane io non c'è se poste non fa una curazione dei settaggi delle carte è tanto inutile arrabbiarsi non non c'è una soluzione la soluzione ci sarebbe stata bastava applicare la norma saraceno in merito i prelievi ma ve l'ho detto fare le cose semplici non entra nella testa di questo governo e infine due paroline sulla melone sul suo sostenitore accadito e qui voglio di comprare io sono felicissimo che un canale di informazioni diventi importante aumenti panni informazioni non contro informazioni ante l'italia non è un canale di contro informazioni sono contentissimo a me frega zero io non lo faccio per la panca non lo faccio per altro semplicemente che per aiutare le persone quindi se un canale informazioni cresce benissimo quindi per piacere l'invidia andate a cercare un'altra parte ma questo non significa che devo essere d'accordo con lui cioè io sono più vicino come posizione politica quella di masala ma quante volte l'ho criticato masala questo il fatto che uno sia contento del successo di un altro non implica che non lo devi criticare cioè questa è una visione da bambini dell'asilo ecco e che la visione che vi ha portato davvero l'attuale governo intervistano la meloni in merito agli zac dice alcune cose su cui non entro perché secondo me lì c'era una doppia lettura da una parte quello che può essere una preoccupazione genitoriale e dall'altra il vellicare eventuali frange politiche che attualmente non sanno da che parte andare anche perché il disastro dei cinque stelle ormai è fattuale ma sulla questione energia ecco ascoltare la meloni mi dà esattamente l'idea delle condizioni in quella politica italiana alle domande di giletti sul fatto che si doveva svegliare un filo prima perché adesso costruire una centrale nucleare sarà buona quando quando magari si utilizzeranno un'altra forma di energia e quindi bisogna risolvere il problema adesso in un paese in cui ci si avevano piantato rogni per la TAP abbiamo piantato rogni per questo per quello e pensano che le pale eoliche risolvano tutto ma non si è mai con ci si è mai congiuntato su un fotovoltaico ad alta resa e le zone ci sarebbero soprattutto al sud e quindi avrebbero comportato anche i posti di lavoro e tutto quanto ma vabbè stiamo sempre qui nel ma faremo ecco ecco il discorso da menù sapete cosa mi ha ricordato mi ha ricordato un racconto di pirandello ora il titolo non me lo ricordo sono sincero però ricordo il racconto da pirandello va a trovare un suo ex allievo in un paesino per arrivarci già al momento in cui comincia il suo viaggio dalla stazione al paesino la strada è completamente sconnessa piena di buche parlando con il vetturino questo gli dice che la strada è così perché si sta lavora si sta pensando a come ripararla la carrozza del vetturino è scassata ma lui non la sostituisce perché non si sa mai che poi fanno la strada in asfalto ci sono le macchine lui perde il lavoro e quindi si smena i soldi il cavallo è spompato ma non lo cambia anche per quello arriva al paese si trova il padre del del suo ex allievo che è un rompicoglione da competizione uno di quei latinisti che farebbero cadere le balle a un t-rex e bala alla al consiglio comunale in cui vengono continuamente saltano fuori idee nuovissime l'illuminazione stradale la facciamo col gas no lo facciamo con l'elettricità no ma c'è questa idea dei tubi e quest'altro io vi consiglio dire leggere il racconto la sostanza che in questo paese non si fa un cazzo un cazzo perché ci sarà sempre un'invenzione nuova che sta per arrivare che sostituirà quella vecchia e allora in attesa che arrivi l'invenzione nuova intanto il paese sta senza luci con le strade sconnesse con le fogne che non funzionano ecco l'italia funziona così e il senso che ha fatto nemmeno di lo stesso e arriverà la fusione nucleare si ora io io ho chiesto aiuto a mio fratello ma sì sì ne ho sentito i miei colleghi così chiacchierate ovviamente dire che hanno sperimentato fatto un esperimento che ha provato il funzionamento della fusione e dire che da lì costruiranno una centrale a fusione domani mattina ce ne corre non è che quando non ho scoperto la reazione di fissione giorno dopo c'è una centrale nucleare ecco intanto il problema va risolto adesso in attesa che arrivi questa forma di energia cerchiamo di risolvere il problema adesso è ovvio che nucleare farlo partire adesso in italia arriverà comunque tardi ma non è detto che arrivi così tardi non poterlo sfruttare ma intanto ci stiamo di sistemare la questione del gas piantiamola di ascoltare le minchiate tipo macron che dice però bisogna essere europeisti così intanto lui l'elettricità la vende all'italia e ci sarà prodotto dalle centrali nucleari quindi ci sono bello con gli americani ma i russi te preoccupati del fatto che tu con la cina ti chiudi gli occhi con le mani e stai zitto non venire qua a impicciarti degli affari dell'europa e la mentalità è questa e se vi dico che la meno è la miglior politica italiana mi lascio immaginare il resto questi veramente stanno non solo rivalutando berlusconi stanno rivalutando anche i creschi e gli andreotti stanno rivalutando gente che fra un po' rivaluteranno scelba ecco per dire come siete messi male cioè la gente ha bisogno di qualcosa di pratico di qualcosa reale di qualcosa concreto si deve rilanciare l'economia non la si rilancia con le stronzate che sta facendo che stanno facendo di speranza i draghi e compagnia danzante perché sono tutte stronzate che non producono lavoro non producono attività e producono solo danni e lo sapete anche voi perché vi basta andare a fare un po di spesa e accorgevi che i prezzi stanno aumentando in modo lieve ma costante ma siccome queste persone a fare la spesa ci mandano il portaborse di queste cose non se ne accorgono ricordatevelo perché adesso ad esempio l'uscita di fico per cui tutti i parlamentari devono essere vaccinati per andare in parlamento scusate il punto all'occhio mi va anche bene non odio a discutere questa cosa lo fanno gli altri italiani devono farlo anche loro però fa molto colore fa molto colore perché vuol dire che tra di voi c'era gente che non era ancora zaccata mentre che debatte l'italiano di zaccarvi correndogli dietro tra di voi ci sono persone che non sono ancora zaccate e allora fatemi capire eh ragazzi un po di coerenza non è che ci si può svegliare sempre dopo il bel gesto detto il bel gesto non serve un cazzo servono cose concrete io vi saluto ci risentiamo tra poco con la video reazione al video dell'avvocato e un commento sull'ennesima l'ennesima scemenza di sabiano chiudo il video con un ringraziamento dottoressa occhi di cielo non faccio il nome perché giustamente non è corretto velocissimi mi hanno fatto letteralmente saltare la fila perché l'appuntamento dopo che ho fatto il video verso 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 mezzogiorno e sono arrivato lì mi ha fatto passare ma non c'era nessuno e io non sono di quelli che scavalca il file non c'era nessuno avrei dovuto aspettare e mi hanno detto ma tanto non c'è nessuno che è un po inutile che stai qua di aspettare un'ora nel vuoto sono stati bravissimi e sottolineo il fatto che quando un medico vuole essere coscienzioso lo dimostra con i fatti tanto che ha voluto chiamare chi mi ha operato a telaviv l'ho fatta chiamare con il mio telefono perché ci mancava solo che gli facessi pagare la chiamata visto che non gliela avrebbero rimborsata di sicuro all'ospedale per sentire un attimo cosa dicevano venerdì mi toglieranno i punti le graffette per il resto ok una volta che me ne avranno tolti potrò andare ad altosa erbe perché per ora e anche non si può proprio fisicamente non diventare acqua a contatto con le graffe e niente volevo semplicemente segnalare questa questo ottimo lavoro che ha fatto questa signora a dimostrazione che i medici bravi ci sono e generalmente non sono in televisione sono sul capo ciao a tutti